Ciao a tutti ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Bayern-Monaco-Lazio 2-1 ma 6-2 sui colfatti totalmente quindi la Lazio adesso come avete visto è fuori dalla Champions League praticamente era l'ultima squadra italiana che era rimasta in Champions League l'ultima squadra italiana e ha fatto praticamente una bella, forse quasi una bella partita nel primo tempo è stato tutto Bayern, nel primo tempo è stato tutto Bayern un gol di Lewandowski sul calcio di rigore, la Lazio ha avuto qualche chance ma totalmente 90% tutto Bayern nel secondo tempo Tupo Motting segna il gol del 2-0 dopo il gol di Lewandowski e poi lì la partita si era conclusa poi Parolo cerca di segnare un gol che poteva svegliare la squadra cosa che ha fatto e poi la Lazio dopo il gol di Parolo si è riaccesa e è attaccato ma non è riuscita ovviamente a trovare il gol del 2-2, 3-2, 4-2 e 5-2 non è riuscita a fare quella cosa ed è ovviamente uscita dalla Champions League adesso sono rimasti tutte squadre straniere, inglesi, portoghesi, spagnoli e tedesche questi sono rimasti, la Juve, Inter, Atalanta e Lazio, tutte quante uscite dalla Champions League diciamo che se non prendevamo quel gol dal Porto sul calcio di punizione potevamo fare qualcosa ai calci di rigore la Lazio lo stesso, se non faceva quegli errori all'Olimpico di Roma magari adesso poteva ancora stare in Champions League ma siccome è uscita adesso, tutte le squadre da adesso sono a un grandissimo risetto e forse possiamo fare meglio la stagione prossima però oggi il Bayern Monaco ha dominato e ha fatto praticamente una partita dura alla Lazio complimenti al Bayern Monaco ma la Lazio ovviamente ha fatto quello che poteva ovviamente poteva segnare di più gol certamente ma il Bayern Monaco ovviamente in difesa eppure i portieri che si buttano in quel modo strano così mi pare non so fare adesso ma in Germania insegnano così ma ovviamente il Bayern Monaco poteva fare di più la Lazio doveva fare di più e poteva fare di più ma ovviamente non c'è riuscito perché il Bayern Monaco ovviamente è troppo forte e forse questa stagione, chi lo sa, potrà ancora vincere la Champions League un'altra volta scusate come ho detto Bayern ma ovviamente la Lazio non era allo stesso livello del Bayern Monaco però speriamo che la stagione prossima un'italiana possa andare oltre i sedicesimi di finale comunque il video stico in cui è qui grazie a tutti i porti sempre e oggi l'ultima italiana l'ultima italiana che ha provato ovviamente la Lazio che ha provato ad arrivare oltre il Bayern Monaco ma ovviamente non c'è riuscito ciao, posto sempre